Nuova impennata di casi positivi in Puglia e nessun decesso. Secondo il bollettino epidemiologico diramato dalla regione sul coronavirus, oggi, 7 ottobre, si sono registrati 196 positivi su 4.822 tamponi effettuati. Un aumento notevole che riguarda soprattutto due province, quella di Bari, dove sono stati rilevati 68 nuovi positivi, e la provincia di Foggia, con ben 80 nuovi casi. Le altre positività si sono registrate nel Brindisino, dove i nuovi contagiati sono 3, 7 nella BAT, 10 in provincia di Lecce e 27 nel territorio di Taranto. E nel barese preoccupa il focolaio scoppiato nella clinica Mater Dei, dove si contano 17 positivi tra medici ed infermieri. L'ASL di Bari ha avviato le attività di tracciamento e test sui contatti stretti dei positivi. Nel Foggiano, invece, la ASL è impegnata nel monitoraggio continuo della criticità creatasi all'interno della sede del Donuva, dove sono risultati positivi al Covid, 35 ospiti e 9 operatori sanitari. Intanto, rispetto alla giornata di ieri, ci sono 54 guariti e non si contano decessi. Con l'aggiornamento odierno, il numero degli attualmente positivi dunque sale a 3.133. Di questi, 251 sono ricoverati con sintomi, 23 in terapia intensiva, e 2.859 sono invece in isolamento domiciliare. È evidente che la ripresa di tutte le attività in tempo di pandemia, la riapertura delle scuole e il ritorno delle vacanze, hanno determinato un innalzamento dei contagi, ha spiegato il governatore regionale Michele Emiliano. Si tratta in gran parte di persone asintomatiche o pauci sintomatiche, quindi al momento non c'è uno stress della struttura ospedaliera e nessuna particolare preoccupazione. Però il virus circola e circola con grande intensità, continua il presidente Emiliano, ed è evidente che bisognerà prendere dei provvedimenti, non solo mettere la mascherina sempre quando c'è un contatto ravvicinato con altre persone. Bisognerà fare in modo, ad esempio, che il trasporto scolastico possa essere meno stressato, ipotizzando anche orari delle elezioni sfalsati. A riguardo si è espresso anche l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, il quale ha spiegato che non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l'andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. È una situazione da monitorare attentamente, che deve comunque invitare tutti alla massima attenzione e prudenza.